Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare un'altra simulazione di FIFA 22 con quanto riguarda questo tavolo di finale di ritorno tra Manchester United e Atletico Madrid sapete che le due squadre all'andata hanno pregiato 1-1 quindi secondo me FIFA 22 ci dirà qualcosa in più per quanto riguarda questa partita e qualche consiglio, soprattutto su come pronosticare sotto questo match quindi non ci perdiamo in chiacchie e andiamo subito a vedere questa simulazione Suarez anche oggi fra i migliori in campo in gran forma si vede C'è la sua firma su questa vittoria, Pier per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno e i difensori se lo sogneranno anche stanotte, è stato un vero incubo per loro Bruno Fernandes dagli 11 metri Un penalty perfetto Rushford Cavani Dice di no con una super parata Suarez Ecco John Felix E c'è il pareggio dell'Atletico Verticale, non male l'idea Conclusione a giro che non ha trovato lo specchio davvero di poco Non capisco il perché di questa scelta, ma da quella distanza devi calciare forte e teso C'era la potenza in questo tiro, ma la mira ha lasciato a desiderare Se l'avesse tenuta più bassa, avrebbe sicuramente inquadrato la porta The ball Possono passare avanti E c'è il gol dell'Atletico E' tutto solo? Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo Cocche Grande riflesso del portiere su questa conclusione d'avvicinata Ha evitato un gol fatto Puro istinto Grazie a tutti Grazie a tutti